La novità è che il segretariato permanente del sito che ricordiamo parte da Bergamo e arriva fino a Cattaro in Montenegro per oltre mille chilometri, il segretariato del sito che ha sede presso il comune di Bergamo ha organizzato un corso di aggiornamento per docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, finalizzato alla comunicazione, l'informazione sull'UNESCO, sul nostro sito UNESCO trasnazionale e con un paio di esempi di altri siti UNESCO in Europa analoghi in qualche modo assimilabili al nostro, si tratta del Vallo di Adriano al nord dell'Inghilterra e delle fortezze di Vauban in Francia. È un intervento importante questo perché innanzitutto perché è la prima azione di attuazione del piano di gestione del sito trasnazionale. È la prima e essendo la prima ci siamo rivolti all'argomento che più sta a cuore all'UNESCO e credo anche a molti di noi e cioè l'ambiente della scuola, la popolazione scolastica. Questo perché? Perché l'UNESCO che è l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, di scienza e di cultura ha a cuore innanzitutto la conoscenza da parte dei giovani perché i giovani naturalmente, non per usare frasi fatte, ma sono il futuro, perché i giovani entrano nelle case, nelle loro famiglie e diffondono la conoscenza di questi argomenti che sono un bene immateriale, sono un bene culturale, ma forse proprio per questo meno soggetto a deperimento e quindi più durevole. Ecco perché l'intervento è finalizzato alla scuola. I docenti di qualsiasi ordine di scuola e di qualsiasi materia poi declineranno nelle loro classi, a seconda della specificità, i contenuti appresi durante il corso. Il nostro sito si presta a valutazioni, a trattazioni assolutamente esponenziali, vastissime, la storia, l'architettura, la letteratura, la botanica, la fauna, le tradizioni, la musica e quindi diciamo ciascun docente potrà trattare gli argomenti riferiti al nostro sito e all'UNESCO più in generale presso i propri alunni nelle proprie scuole, nelle proprie classi.